Gloria a Dio! Avello! Vogliamo aprire la scrittura e leggere un verso del Libro di Giove, capitolo 17, il verso 3. Libro di Giove, capitolo 17, verso 3. Dio sia dotato! O Dio, dai impegno! Sì tu il mio malevalore presso di te! Se no, chi metterà la sua nella mia mano? Amen! Gloria al Signore per la sua santa parola! Che noi abbiamo leggere, meditare, assimilare e custodire! Ci sono alcuni che hanno familiarità con la scrittura e questa familiarità che ha già acquisito li porta a scegliere i passi! Quello che devo leggere è quello che non leggo, quello che mi può allegrare è quello che mi attrista! E così molti, secondo il proprio criterio, utilizzano la scrittura e si privano di certe rivelazioni che Dio dà! Perché la parola è una benedizione per chi la riceve interamente, integralmente! Per chi la riceve tutta, perché ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile per insegnare, è utile a formare i figli del Signore! Crediamo in questo? Amen! Benedetto è il nome del Signore! E così, Giove è uno di quei personaggi che ne ha passati tanti nella vita, che quando qualcuno apre il libro di Giove, in fretta cambia! E invece il libro di Giove è una benedizione per ognuno che vuole servire il Signore, è una benedizione per la Chiesa, come, mi ripeto, tutta la parola! Quello che ha vissuto Giove viene vissuto ancora oggi, chi più e chi meno fa le medesime esperienze! Perché poi, fratelli, lo stato d'animo umano arriva a essere sapro di afflizione, di amarezze, di perplessità e c'è chi soccombe per poco, Chi resiste di più e di meno, ma c'è anche chi soffre, continua a soffrire e resiste, perché non confida in se stesso, non confida negli altri, ma confida nel Signore! Il segreto della buona riuscita della nostra vita, per arrivare a destinazione, per ultimare la nostra esistenza nel migliore dei modi, è legarci a Dio! Accada quel che accada, qualunque cosa avvenga nella nostra vita, non distacchiamoci mai dal Signore! E questa è una peculiarità di Giove, una sua caratteristica che lui ha evidenziato nei suoi sfoghi, ma che Dio ha riconosciuto in lui come un uomo che lo ha amato e che lo ha servito, un uomo dall'animo sincero, dall'animo legato al creatore! La Dio risa la nostra mente, ci vuole portare a fare chissà quali pensieri, si parlava di depressione e quindi di pessimismo, di decadenza, per poi cercare delle soluzioni che non faranno altro che peggiorare quella preesistente! Se l'uomo si abbandona a questi pensieri, ne ha un frangherà, ma la Bibbia ci esorta a dominare i nostri pensieri, ad avere i fianchi della nostra mente cinti, cioè a sapere controllare la mente! Fratelli, l'elaborazione mentale ci può portare lontano sia il positivo che il negativo e noi non dobbiamo soccombere alle situazioni della vita e neanche dobbiamo soccombere ai pensieri che la nostra mente formula, dobbiamo essere ancorati a Dio! Ci sono situazioni oggettivamente difficili, veramente tristi, situazioni che non hanno all'orizzonte la via d'uscita, la soluzione, ma come dicevo, se noi siamo ancorati a Dio, noi siamo legati a colui che può cambiare le cose, a colui che può fare l'impossibile, a colui che è il dadore della vita, che è il creatore di tutte le cose e che quindi può trasformare ogni circostanza. Noi siamo persone che credono in Dio e la nostra fede non deve mai venire nero. Tante volte a complicare le cose non bastano le situazioni, ma si presentano anche delle persone e queste persone inizialmente si accostano, si avvicinano con buone intenzioni, con un buon intento per fare del bene, ma siccome nell'uomo, fratelli, non abbia alcun bene, il bene che l'uomo può esprimere, lo esprimerà se è guidato da Dio. Ma se anche l'uomo che ha le buone intenzioni, esami le cose, valuta le cose secondo il proprio criterio, si può sbagliare. Così come si sono sbagliati gli amici di Giove, erano partiti da lontano, abitavano questi tre amici in tre località diverse, ma evidentemente si conoscevano tra loro perché hanno concordato, avendo sentito parlare delle disgrazie che hanno colpito la famiglia di Giove di andarlo a consolare. Giove dice che hanno fatto un lungo cammino e quando sono arrivati da lontano lo vedevano, la condizione di Giove appariva piedosa, appariva veramente da lasciare stupidi, attonini, e dice che per sette giorni e sette notti non hanno aperto la bocca. Sarebbe stato degno a continuare nel silenzio. Perché la presenza silenziosa può essere solidale, la presenza tacita può essere un comporto perché chi vive una determinata condizione e si trova solo ha la sofferenza e la solitudine che peggiora la propria situazione. E se trova qualcuno a fianco, anche nel silenzio, sicuramente la sofferenza viene a deviare. C'è una presenza fisica, silenziosa, tacita, rispettosa del dolore e dell'amarezza e dell'attivazione altrui, è presente e quindi può essere d'aiuto. Ma se volendo fare il bene, si pensa che a tutti i costi bisogna pronunciarsi, bisogna parlare, è qui che c'è un errore di valutazione. Ci sono persone che vogliono parlare a tutti i costi, vogliono avere una parola per ciascuno e per ogni situazione. Fratelli, non sempre è così, non sempre abbiamo una parola a portata di bocca. Anche i profeti, che erano profeti del Signore, non si pronunciavano subito. Abbiamo esempi nella scrittura che dei profeti si sono dati alla preghiera, hanno pregato e quando la parola è stata rivelata, hanno parlato. C'è chi ha aspettato anche diversi giorni, ma quando la parola è stata proferita, era una parola rivelata, una parola di rivelazione divina, una parola che poteva istruire, poteva orientare, poteva dare giusto consiglio, e comunque quello che serviva alla persona, che veniva da parte di Dio. Ma Giobbe è privato di tutto questo, perché tre amici hanno incominciato a parlare a turno, parlava uno, poi parlava un altro, e quello che dicevano, prendendo quelle argomentazioni a sé stanti, che avevano oggettivamente un contenuto attendibile, ma era inopportuno al momento, era inappropriato con riferimento alla persona, e quindi noi ci rendiamo conto che possiamo dire delle cose giuste nel momento sbagliato. Possiamo dire delle cose giuste alla persona, che in quel momento non ha bisogno quella parola, ma ne ha bisogno un'altra. In farmacia ci sono tanti farmaci, ma vengono somministrati secondo la prescrizione, e se si somministra un farmaco sbagliato, può causare la morte. È così o no? Ammè. E anche le parole sono di vita, e possono essere anche mortali, possono apportare un beneficio, e possono apportare un ulteriore sofferenza, a un peggioramento della situazione. Giobbe, prima ancora che arrivassero gli amici, lui sposava, aveva saputo la vicenda di Giobbe, l'aveva letta, aveva tutti quei figli, aveva la moglie e i figli li aveva persi, e la moglie no. Ma la moglie non era un aiuto per Giobbe. Prima ancora che gli amici l'avessero esasperato, quella voce della persona a lui vicina, quella voce della moglie, che uno non se lo sarebbe mai aspettato, la moglie, la persona più affettuosa, la persona familiare, in congiunto, la moglie pure lei vittima di questo dolore, di questa sofferenza, di questa angoscia, come mamma che aveva perso pure lei vittima, non era regata a Dio come Giobbe. E disse a Giobbe, quando lo vide in quella condizione da suscitare pietà, compassione, disse, ma lascia stare Dio e muori. Come se la morte fosse la soluzione a tutto. E che rivelazione aveva di Dio questa donna? se diceva lascia stare Dio e muori. Perché, fratelli, ancora nell'Antico Testamento si credeva nell'eternità di Dio e che le persone avrebbero avuto a che fare con Dio dopo questa vita. Quindi, lascia stare Dio non è una parola giusta, non lo è mai stata e mai lo sarà. Lascia stare Dio è una parola sbagliata, ma la parola giusta è avvicinati a Dio. Stai con Dio, apprestati vicino a Dio. Immogano, non ti sperare, non ti scoraggiare, non ti affilire. Preghiamo insieme il Signore, preghiamo insieme il Signore. pregare si tipica aiutare a intercedere, aiutare ad affidarsi nelle mani di Dio, incoraggiare ad affidarsi nelle mani di Dio. E la preghiera, poi, man mano che scorre, non è che deve essere un discorso, che è quello che non si dice discorsivamente, poi si dice della preghiera. la preghiera deve essere un sentimento nobile, deve essere un sentimento sincero, un sentimento che se si prega per gli altri, li dobbiamo aiutare ad avvicinarsi al Signore, supplicare a Dio che sia provizio verso quella persona. Giobbe tutto questo non l'ha avuto, ma ne ha potuto fare almeno, perché non si ribellò mai nel suo interiore al creatore, o per meglio dire si dieve a sfoghi anche i rispettosi dal mondo, anche i inopportuni sicuramente, ma nel suo intimo c'era una radice proponda che lo legava a Dio. e quindi lui stesso quando se ne accorgeva che stava esagerando disse esordì con quella parola rinomata ma le parole di un disperato se le porta via il vento. Lui sapeva che nel suo cuore aveva un sentimento per Dio che era stabile che era solito fratelli e sorelle noi abbiamo cantato stamattina o mio signore guarda il mio cuore e chi meglio di lui lo può guardare per reggervi e lo può guardare per proteggerlo ma vogliamo fare pure noi qualche esame in prospettivo o no? Vogliamo esaminarci pure noi vogliamo guardare per quello che possiamo perché l'uomo non potrà mai conoscere la piena e anche se stesso ma guardiamo dentro di noi fino a che punto è profonda la radice che ci lega a Dio se basta una situazione incresciosa per portarci alla ribellione se basta una prova se basta un lutto se basta una difficoltà un dispiacere una incomprensione una dissensione una controversia quanti ce ne sono che subito abbandonano il Signore e si ribellano contro di Lui non fu così Giobbe e Dio lo ha riconosciuto in Lui questo nobile sentimento e questa radice di fedeltà gloria al nome del Signore la gloria di Dio in ciascuno di noi stamattina e se guardandoci dentro vediamo che il sentimento vacilla o sia questa l'occasione profizia per cercare intensamente il Signore perché è scritto a colui che fermo nei suoi sentimenti e gli conserva la pace perché in Lui confia in questo verso che abbiamo letto c'è tanta tenerezza c'è tanta profondità di sentimento Giobbe si rivolge a Dio mentre lamenta le sue sofferenze i suoi acciacchi i suoi avvenimenti ma si rivolge a Dio come all'unico rifugio si rivolge a Dio come all'unico indirizzo si rivolge a Dio come all'unico invocazione e dice oh Dio dai tu un peggio presso di te sii tu il mio allevatore presso di te gloria al nome del Signore in altre parole che cosa sta dicendo Giobbe a Dio Giobbe si sta esprimendo e sta dicendo vedi Signore nessuna considerazione ho da quelli che mi stanno attorno nessun aiuto ho da quello che mi circonda non ho speranza che la vita possa riconire per me e possa sortire nuovi giorni ma sii tu il mio garante sii tu il risolutore della mia situazione della mia condizione dai tu un peggio presso te stesso sii tu il mio allevatore perché altrimenti chi metterà la sua nella mia mano chi mi aiuterà chi potrebbe venire in incontro se non tu che bella parola che meravigliosa espressione questo è un abbandono totale fiducioso nelle braccia del signore è uno slancio di affetto mentre tutto frane attorno a lui mentre tutto è scolaggianti attorno a lui mentre persino gli amici lo giudicano sua moda gli dice lascia stare i tiri e tu muori lui vede la sua situazione fisica degenerare vede il suo stato d'animo depriversi vede che non ci sono prospettive rosee ma si aggrappa a Dio si aggrappa a Dio e questo rincoraggiamento per la chiesa stamattina che ogni anima che ascolta si aggrappia al signore ma nell'aggrapparsi al signore anche se noi intravediamo la soluzione c'è la fiducia in Dio che da ciò che non si vede può fare apparire la soluzione può fare apparire un esito ormai non sperato ormai che non appare ma da Dio tutto può scaturire da Dio tutto può uscire da Dio tutto può emergere dalla sua autorevolezza dalla sua magnificenza dalla sua gloria dalla sua maestà tutto può essere generato in tuo favore fratello in tuo favore sorella ma tu come Gioppe dici signore quando l'aiuto mi viene legato non posso sperare alcunché né dalle cose né dagli uomini né anche dai familiari signore sii tu il mio garante dice un'altra traduzione dai tu la canzone per me presso te stesso gloria signore fratelli Giove in questa esternazione probabilmente senza rendersene neanche conto sta profetizzando di una grande verità sta profetizzando di una grande rivelazione che sarebbe stato a beneficio dell'intera umanità attraverso la predicazione dell'Evangelo che Dio stesso sarebbe intervenuto divinamente per aiutare l'uomo e il profeta dirà nel nome del Signore pronunciando la parola profetica io stesso verrò a salvarvi io stesso interverrò per il vostro bene quello che Giove chiede a Dio che sia lui stesso il risultore della sua situazione che lui stesso presso di sé dia un peggio dia una cauzione per la sua vita per la sua esistenza Dio questo lo ha fatto in una maniera eccellente in una maniera incomputabile in una maniera chiara attraverso il dono del suo amato figlio Gesù Cristo quale salvatore del mondo vi è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini Gesù Cristo Dio stesso ha provveduto un salvatore dal cielo il salvatore è venuto dal cielo la tua salvezza non viene dai tuoi familiari la tua salvezza non viene dai tuoi amici la tua salvezza viene da Dio stesso che ti ha creato e perciò è bene che la creatura si rivolga al creatore e che faccia questa preghiera oh Dio paga tu interveni tu dai tu impegno dai il mio riscatto presso di te è qui fratelli che c'è questa chiara rivolazione perché tutto avviene da Dio presso Dio in una maniera divina in una maniera soprannaturale però in aiuto all'uomo benedetto il nome del Signore quando i primi amici finirono di parlare di Giove fece le sue stannazioni e poi intervenne una quarta persona di nome Eliud ebbene quest'uomo non parlò come gli altri ma parlò in maniera pesante in maniera forte in maniera incisiva però era un parlare che costruiva un parlare un parlare di benedizione e tra i passaggi della discussione della conversazione delle espertazioni di Eliud ci fu questa che se l'uomo arriva ad una condizione ma presso di lui vi è un angelo che gli parli nella maniera adeguata che gli parli nella maniera giusta allora Dio dice queste sono le parole di Eliud Dio dice ho trovato il suo riscatto gloria al nome del Signore e quindi ecco la soluzione è a portata di parte la soluzione c'è niente la poteva fare entra a vedere ma la soluzione è provenuta da Dio io ho trovato il suo riscatto nel Salmo 49 c'è scritto che il prezzo dell'anima dell'uomo è troppo caro e nessuno lo potrà riscattare perché sarà sempre insufficiente ma Cristo sì Cristo sì che ha dato per noi cauzio posso sentire il vostro ame un ame di grado un ame di riconoscenza un ame di comprensione della salvezza che è intervenuta nella nostra vita Cristo ha dato per noi cauzione Cristo ha pagato il prezzo per noi Cristo è intervenuto presso Dio è bene quell'espressione del Salmo 85 che dice la benignità e la verità si sono incontrate la giustizia e la pace si sono baciate la verità germoglia dalla terra ma la giustizia riguarda dal cielo è un'intesa divina è un'opera sovranatronale è un'opera di grazia un'opera di salvezza un'opera di benedizione provenuta dal Dio stesso nel mezzo del suo eterno figlio che è diventato uomo per salvare gli uomini gloria dal nome del Signore ora noi abbiamo una garanzia di salvezza questa garanzia non viene dagli uomini ma è presso Dio per mezzo di Gesù Cristo la preghiera di Giove è stata esaudita la preghiera di chiunque cerca aiuto a Dio sarà esaudita perché presso Dio c'è il riscatto assicurato presso Dio c'è un prezzo già pagato c'è un pegno di garanzia benedetto il nome del Signore lo vostro Pietro dice in maniera chiara che non siamo stati comprati né con oro e neanche con argento ma con prezioso sangue di Gesù amén fratelli e sorelle voglia il nostro cuore esplodere di gratitudine ma una riconoscenza che non sia soltanto verbale ma che possa esprimersi anche attraverso una vita a Lui dedicata a Lui consacrata che non venga a meno accada qualche accada accada a noi dentro di noi nel nostro corpo qualunque cosa non ci separi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore benedetto in eterno amén grazie a tutti grazie a tutti